la regina controlla la dimensione delle celle per decidere che uovo deporre ecco ha inserito la testa e adesso l'addome tac fatto prossima purtroppo la nostra regina del tabare è marchiata ma così l'abbiamo ricevuta un'altra infira la testa controlla le dimensioni e inserisce il sedere no questa volta no